Che cazzo parli? Stai zitto, fatelo stare zitto! Perché avete fatto parlare Guam per fargli dire sta cagata? Perché gli avete fatto dire sta cagata? Che mostro che malvagità è inaudita? Porco Dio, non lo sapevamo! Diocane ha... Diocane ha fatto un genocidio di intera umanità! Mi dispiace, ma i ficcanaso non li ho mai potuti soffrire. Dov'è la musica? Davanti agli occhi esterrefatti... Perché parli? Perché parli? Ma cosa parli? Ma cosa parli? Ma cosa parli? Non abbiamo appena visto ciò che hai appena detto! Ma cosa cazzo parli?